Salute, grazie a tutti. Pensavo che Carlin mi avesse già tolto la parola. Perché Roberto dice, ma non so come ha fatto, ma è stato veramente molto delicato. E con me non lo è così, è bene dirlo questo. Anche Roberto qualche bugia ce l'ha raccontata. Si è presentato davanti al microfono e ha detto, ho la salivazione bloccata. Ha parlato un'ora e mezza. Ringrazio, al di là delle battute, ringrazio Roberto per l'invito e per la grande opportunità che mi dà. Carlin, io l'ho definito, a bravo, ho detto, è come si può usare un termine che è tutto piemontese. È come la panda, ve la ricordate la panda? Se non ci fosse bisognerebbe inventarla. Eccola qui, la panda. Non vi dico che discussioni facciamo assieme. Però io ogni volta che incontro Carlin, poi dico, cavoli, ho partecipato a un incontro culturale di livello. Ma noi ci diciamo parolacce, non ci offendiamo mai. Discutiamo moltissimo. Beh, io spesso all'inizio gli dicevo, guarda, tu rappresenti un'associazione di fighetti, devi darti una regolata, cerca di preoccuparti anche di quelli che non hanno i 50 euro per andare al ristorante. Lui ci incazzava sempre di più. Ringrazio Silvio. Silvio perché comunque penso che la presentazione che ha dato Roberto sia l'esatta descrizione di cosa significa avere Silvio in questa associazione. E Gino non posso che ringraziarlo e salutarlo per la presentazione e per quello che ha fatto per Slow Food qui in Veneto. E saluto tutti voi ovviamente. Due brevissime riflessioni. A me sembra, non sembra un caso, che ci siano qui due ex ministri dell'agricoltura. Saluto Gianni Alemanno. Non è un caso. Che qualcuno dice, si torni sul luogo del delitto. Vuol dire che Carlin, con quel suo imprinting, no? Lorenz parlava dell'Occa Martina. Noi mutuiamo questo. Non riusciamo a stare a casa quando ci chiama. Gianni, io questa volta ho avuto la fortuna che ho venuto in Veneto. Però se andasse anche il capo al mondo, tipo quell'ottobre del 2011, quando farà il congresso con i contadini americani, noi ci saremo. Perché siamo convinti fino in fondo che la filosofia che Carlin, che tutti voi portate avanti, è una filosofia che vogliamo sposare. Quali sono le brevissime riflessioni? E sarò veramente breve. Innanzitutto l'imbarazzo che provo quando trovo gli agricoltori a dover discutere con loro di quello che sta accadendo. Ha ragione Roberto quando dice il reddito è calato del 36%, sono spariti il 70% degli agricoltori da dopo guerra. Sono tutti temi che noi conosciamo. Questa è una regione che ha 160.000 aziende agricole, ha un PIL di 6 miliardi di euro. Però dico che noi oggi abbiamo degli agricoltori ai quali dobbiamo pensare. Ve venga questa filosofia che voi state portando avanti, che noi condividiamo. Che è quella di pensare che comunque questo non è solo un patrimonio produttivo identitario, ma anche la nostra storia. È quello che noi non possiamo abbandonare. Certo è che le soluzioni, io ve lo dico da ex ministro dell'agricoltura, si può dire ex, diciamo da colui che ha fatto il ministro dell'agricoltura, forse ci porta meglio, no? La riflessione che tu ti trovi a fare è quella di sapere che hai una nazione che ha 4.750 prodotti tipici e quindi dietro ad ogni prodotto tipico c'è un campanile, c'è una comunità, c'è la storia di questa comunità e dall'altro qualcuno che ipotizza delle soluzioni. E che non sono le vostre, che non sono le nostre soluzioni. Che sono quelle di andare a raccontare le bugie ai contadini dicendo loro che la concorrenza allo stipendio di un euro al giorno degli indiani o di 5 euro al giorno dei cinesi sia all'OGM. Vedete, anche se qualcuno sta facendo passare il concetto che essere contro l'OGM vuol dire non essere per la modernità e essere per l'OGM significa essere i fighetti della situazione noi saremo pur sfigati ma diciamo di no agli OGM. Lo diciamo di no perché abbiamo delle motivazioni e lasciatemele scandire con chiarezza soprattutto a chi mi sta attaccando da molti mesi ma perché innanzitutto difendiamo la vera unica multinazionale che è quella dei contadini. Noi non vogliamo avere nulla che spartire con chi va a fare le pressioni dai ministri li ho incontrati anch'io tanti bei sorrisi ma guardi gli OGM no, gli OGM non vanno bene non vanno bene perché ha ragione Carlin, ha ragione Roberto quando si dice che comunque è una rinuncia alla nostra biodiversità non vanno bene perché ai contadini non bisogna raccontare le bugie dove si coltivano gli OGM non si guadagna di più facciamocelo raccontare facciamoci raccontare non solo da Vandana a Shiva cosa è stata la rivoluzione verde ma facciamocelo raccontare anche degli americani io li ho incontrati i rappresentanti del governo americano sto parlando del ministro sto parlando dell'ambasciatore i quali comunque oggi si pongono il problema di scegliere anche una seconda via per l'agricoltura che non è solo quella dell'agricoltura degli OGM delle multinazionali ricordiamo a chi ancora ha qualche dubbio sapete i gesuiti dicono che piuttosto che e Carlin questa l'ha capita questa lezione piuttosto che rassicurare fedeli è meglio evangelizzare gli infedeli quindi se c'è ancora qualcuno che ha qualche dubbio ricordiamo che dove si vendono gli OGM i poveri o quelli meno abbienti debbono comprarsi i cibi OGM e gli altri fighetti no? l'ha visto? Gran Bretagna gli organic food perché hanno comunque la lira da spendere l'OGM comunque significa anche una rinuncia alla sovranità in agricoltura che non è solo quella alimentare ma sentite a me inquieta pensare che ci siano dei semi già programmati per non dar vita a semi a me inquieta pensare di dire all'agricoltore che pianterà una pianta d'uva che sarà una pianta d'uva che avrà uva senza semi negli acini e che se poi vuole la seconda pianta d'uva deve chiamare qualche laboratorio scientifico per farsi spedire il secondo seme io mi preoccupo del fatto che quando parliamo di OGM è bene chiarirlo fino in fondo che la comunità scientifica è spaccata esattamente a metà sulla loro inocuità mi ricordo che un anno fa in Germania Isle Heiner il ministro tedesco ancora in carica ha dovuto sospendere la coltivazione di un maestro angenico perché dava problemi di tumori epatici sulle cavi del laboratorio la Germania, non lo dicono gli italiani che di solito fa sempre confusione come dice qualcuno lo dice la Germania addirittura deve decretare la sospensione della coltivazione di un maestro angenico in Europa i maestro angenici sono autorizzati